Ciao a tutti ragazzi, io sono Momat10 e oggi ragazzi vi racconterò proprio qua sul mio canale com'è la storia del mio team ZH come vedete già dal tag che indosso io in ogni partita, vabbè io comincerei a raccontare, chiedete? Prima però di raccontare io vi chiedo un piccolo favore, mi raccomando iscrivetevi tutti al canale, è gratuito, quindi tasto rosso iscriviti, ci siamo Attivate la campanellina perché non perderete mai i miei video, seguitemi su Twitch, mi chiamo Momat10 e mi raccomando spolliciate questo video di like che se nel caso arriviamo a 5 like, prossimo video ditemi voi che storia Comunque mando alle ciance, allora praticamente inizia tutto 6 mesi fa Madonna come lag, ragazzi scusatemi per il lag Bello 79 di ping Raga non va niente però Scusate ora inizio, ok Allora dicevo inizia tutto, ora macro arrivo Inizia tutto circa a novembre, fine novembre Dove io ero in un team di nome Racing In classe mia a scuola c'erano già due team I Racing e i Goal Io insieme a Macro, che già conoscerete Ehm Eravamo ovviamente nei Racing Perché Poi c'erano i Goal composti da altri player Allora Questo è il capo dei rating Ovviamente un nostro amico Disse questo Disse ragazzi Voi siete un po' Non ci considerava più Era entrato un certo granone Un suo grande amico Uno che lui era innamorato praticamente E praticamente Dopo l'entrata di questo granone Questo nostro amico ha smesso di considerarci E a me a Macro sinceramente Ditemi se a voi non l'avrebbe fatto Ci ha dato tantissimo Ci ha dato un po' tanto fastidio Perché sinceramente noi avevamo dato tutto al suo team Allora Lori Il capo del team insieme a me Detacca Lori10 Mi raccomando Per provini Mandateli idea a me Detacca a me 10 Il mio nome E allora niente Decidemmo allora Anche il momento di poter Di creare un nostro team Calmatevi lì sopra Di creare un nostro team Io e Lori Inizialmente il nome era da decidere Subito appena partimo Con dei membri Con abbastanza membri Vai a casa Nabbo E allora Iniziamo con questi 4-5 membri Che erano Palco I Erano Palco Io Lori Macro E Aquax No Aquax Non c'era scusate Era Davi Davi E poi arriveranno altri Allora Cosa decidemmo noi Raga Non sapevamo che nome dare Allora Io scherzosamente Dissi Chiamiamoci Patatini Diabolici Io lì per lì Sto nome Patatini Diabolici Era una battuta Però i miei amici Piacque Allora noi fummo I patatini Diabolici Per circa 40 minuti Perché Durante i laboratori Di matematica Avevamo finito Di lavorare Quindi sinceramente Non era più Nostro compito Stare lì A Stare A non fare niente Perché era anche L'ora di ricreazione Allora cosa faccio Dico Raga Che ditevi va bene Sto nome Patatini Diabolici E loro Si si E strabello E strabello Ovviamente Stavamo scherzando E cosa fanno Siamo Diventiamo così I patatini Diabolici Nome scherzoso Ricordatevelo sempre E niente Noi siamo nati Ma Poco dopo Circa verso l'ora di pranzo Sono state le 12 12 e un quarto Noi a scuola mia Pranziamo a luna E allora niente Cominciamo Perché io faccio Tempo piano Fino alle 4 E vado dal mio Capo Il mio Capo Insieme a me Lori Dico Senti Fra Gli altri hanno provato I patatini diabolici E lui dice Scusa Matt Momaz Ragazzi Io mi chiamo Matteo Per questo mi hanno detto Matte Vabbè Mi sembra Un uomo un po' idiota Per un team Allora Io un po' Sinceramente Io ho dato un po' Ragione Perché ragazzi Un team competitivo Patatini diabolici Non è definibile Un team Diciamola Allora niente Noi cominciamo Questo team Poi poco dopo Passiamo tutta la ricreazione Quindi Capirete bene Quasi 3-20 minuti E coda di ricreazione Quindi invece di giocare Come tutti i nostri amici Ci spremiamo il cervello Per trovare un nome Per il team No Non ne trovavamo uno Uno giusto Uno buono Per il nostro team Era introvabile Era niente Allora Scusate Volevo sparare il cinghiale Noi ancora Non l'avevamo trovato E cosa facciamo Sinceramente Un po' Ci arrabbiamo Perché diciamo Cacchio Non ne trovo uno Che allora Vada bene A me Ugualmente Allora Si mette in mezzo Un nostro Compagno Gol Lapo 10 Seguitelo Su Twitch Mi raccomando A nome No Devo provarlo Infanteria E' tornato Infanteria Oh mio dio Va bene ragazzi Comunque Continuiamo Arriva questo nostro amico Gol Lapo 10 Seguitelo ovviamente Ripeto Sul Twitch Siamo Lapo Andreini E Youtube Ugualmente E dice Fra io Sinceramente Sennò mi sembra un po' Stupidi E noi diciamo Che dite raga Vi piace Zenith ZH Come tag E tutti Si è carino E carino Nasciamo così Noi Subito Ci fuochiamo Per trovare i membri Oh cavolo Dei membri Dei membri Dei membri Erano diventati La cosa più Difficile Di questo pianeta Perché ragazzi Veramente All'inizio Trovare dei membri Era impossibile Quasi Poi avevamo Questi Racing Raytex Che ci pressavano Ci prendevano in giro Un po' Allora Noi che facciamo Io e Lori Decidiamo Di sponsorizzarti Un po' dovunque E arriviamo subito Ai 6-7 membri Che sono una buona soglia Poi Passano le feste Di Natale E Macro Ci abbandona Improvvisamente Macro se ne va Dal nostro team Insieme all'Urvi L'Urvi Ce l'aspettavamo Perché stava Programmando Di entrare In un team Di nome Sky Macro Aveva Detto dichiarazioni Poco prima Avevamo parlato Ma è un po' Avevamo parlato E lui sinceramente Era un po' Contro i Racing Era un po' di giorni Fa un po' di tempo E Macro Viene al palco Con me E mi dice Fra sono nei Racing Già cambiato nome Tag Stai tranquillo E io Ragazzi Sono diventato Una bestia Perché Mi sono arrabbiato Macro ha fatto E lui mi ha detto Me l'ha detto Pip Filippo ovviamente Il capo dei Racing Ci ha detto Lui ha detto Che i Nigerzatacca Sono un po' scarsi Meglio andare da lui Siano più competitivi Quindi Niente Lui se ne va Io e Lori Ci depiniamo Ma arrivano Passando così Pochi mesi Arriva subito Il periodo di Twitch Il mio primo giorno Su Twitch Precindamente 2 marzo 2021 Sono arrivato Finalmente Sulla prima Piattaforma rossa E registravo Però in quel periodo Spesso Quei video Che non avevo mai Caricato con Macro Su Twitch La piattaforma Viola Cominciano a vedere Faccio un salto enorme Di follower Poi mi cadono Sono dettagli quelli Allora Arriviamo lì E dico Cavolo Macro Se ne è andato Altri se ne sono andati Perché non Trovarne altri Allora Ogni volta Mi veniva un follower Provino Entrava nel team E lì ne sono entrati Tanti Tra cui un po' Di ProPlayer Ragazzi Io non so Se lo conoscerete Blackwars È entrato Blackwars E fammi finire Sta storia Fammi finire La storia Che cavolo Vabbè ragazzi Comunque Niente Arrivano Blackwars Lello E il team Diventa davvero Il team Poi Un mio amico Canzit Lo conoscerete sicuro Lui Era ancora Nei racing Però era Nell'academy Allora noi in segreto Ce lo prendiamo Il player A PIP Gli va bene E annunciamo subito Su tutti i social Il nostro nuovo membro Poi macro Viene mandato Nell'academy E torna Negli ZH Lì arriviamo Intorno ai 30 membri Allora lì Cavolo Siamo davvero Siamo davvero qualcuno Siamo veramente Inventati un team Serio Competitivo Poi cominciamo A vincere i tornei Con Guardate Ve ne faccio esempio Lui Poi però Eravamo andati in 30 E ora arrivano i pezzi salienti A un certo punto Cans Ci voleva fare uno scherzo Decide davvero Di andarsene E fondare i Raytex Il giorno dopo A ruota Lo segue anche Davy E noi ci troviamo Un po' Nella cacca Pochi giorni dopo Davy è rientrato Perché i Raytex Non gli andavano bene Cosa che ha fatto Anche macro Che è ritornato Cans Inse invece Ancora per la sua strada Con i Raytex E è iniziato anche Il mio torneo Per il team E oggi ragazzi Siamo ufficialmente In 34 membri Divisi in tantissimi giochi E finalmente Posso annunciare questo Stanno per uscire Le magliette del team Ragazzi Un obiettivo enorme Ci abbiamo messo tanto Collaborando con tutto E questa Definibile la storia Del mio team Mi raccomando ragazzi Ditemi se questa storia Vi è piaciuta Lasciate like Iscrivetevi al canale Attivando la Campanellina E noi ci vediamo In una prossima live In un prossimo video Ciao belli Spolliciate il video di like